Presbiteri e seminaristi, amici della parrocchia e parenti, troppi per starci tutti in casa. È raro ma succede, una cerimonia insolita, la nomina diacono di un ragazzo che ha chiesto di diventare sacerdote prima di morire, consapevole dello stadio terminale della sua malattia. Una storia triste ma insieme una testimonianza di fede, dice il Vescovo di Trani, che ha esaudito il suo desiderio. Salvatore Mellone vive a Barletta a 38 anni, ha lasciato tutto per entrare in seminario a Molfetta, il suo desiderio più grande, fare il prete e aiutare i malati. Sono dei messaggi fortissimi che dicono a tutti, anche a chi non è avviato verso il sacerdozio, ai semplici giovani, che la vita la dobbiamo vivere nella dimensione del dono. Salvatore ha ricevuto la chiamata di Papa Francesco che gli ha chiesto di pregare per lui quando sarà sacerdote. Adesso la speranza è che guarisca presto, c'è un misterioso disegno di Dio, a noi non sempre comprensibile. Il miracolo è l'ultima malacosa più grande che noi chiediamo al Signore in questo momento, però sempre accompagnata dall'espressione che Gesù ci ha insegnato, Padre sia fatta la tua volontà.